Allora avete preso parte al treno della memoria, siete dell'istituto severi di San Giovanni Valdano, prima di tutto perché avete partecipato a questa iniziativa? Io parlo, per me mi apprezzo di parlare anche per essere miei compagni, abbiamo preso parte a questa iniziativa perché pensiamo sia importante sapere e soprattutto non dimenticare quello che è successo nel periodo della seconda guerra mondiale, non solo in Germania ma anche in molti altri partiti del mondo. Cosa ti aspetti da domani in poi? Sinceramente è difficile rispondere a questa domanda perché è la prima volta per me, quindi ci si aspetta tante cose diverse, poi tutto quello che so è grazie a quello che ho visto su internet perché comunque nel corso di preparazione che abbiamo fatto prima di venire ci hanno fatto vedere la nostra professoressa. Quindi non lo so, è difficile rispondere. Allora tu, voi anzi? Io mi aspetto molto ma concreto, cioè quello... Grazie a voi.